Le hai provate tutte, ma con le classiche strategie alimentari che si basano sulla derivazione di alcuni nutrienti o sul conteggio inflessibile delle calorie, ti sei reso conto che non sono le strategie adatte a te per condurti al raggiungimento di un risultato che sia duraturo nel tempo. Probabilmente allora già lo conosci e ti sei approcciato o dovresti provare il digiuno intermittente. Ho parlato molto nei miei video del digiuno intermittente, di come funziona l'alternanza tra fasi di alimentazione e fasi di digiuno e come questa alternanza vada ad aumentare il tuo metabolismo, aiutandoti quindi a consumare grasso in eccesso come nessun altro tipo di alimentazione finora sia stata in grado di fare. Se sei del tutto un esperto sul tema digiuno intermittente, ti consiglio di andare prima a guardare la playlist completa che ti lascio qui nel collegamento. Ma in questo video voglio parlarti di una strategia che io applico in prima persona su me stesso e che ho testato su tantissime altre persone che seguo all'interno del mio programma di coaching online ALPT con fitness e che ha portato a dei risultati veramente sorprendenti. Questa strategia ti permetterà di accelerare ulteriormente il metabolismo e quindi di potenziare quello che è già l'effetto del digiuno intermittente, così da farti ottenere più rapidamente risultati che ti si è prefissato. Se vuoi sapere quindi come raddoppiare o addirittura triplicare la potenza del tuo metabolismo, segui questo video fino alla fine. Ciao, sono Angelo Lacorte, personal trainer, life coach e grande appassionato del miglioramento della performance umana. La mia missione è quella di aiutare le persone a raggiungere il proprio obiettivo fisico, di salute e mentale vivendo felici. Se sei interessato a tematiche come perdita di peso, digiuno intermittente, alimentazione sana e consapevole, allenamento e tutto quello che c'è da sapere per condurre uno stile di vita sano a 360 gradi, iscriviti al mio canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato su tutti i contenuti che pubblico ogni settimana. Ricorda che tutte le informazioni che trattano i miei canali sono a scopo prettamente divulgativo e informativo e in nessun caso vanno mai a sostituire il consulto, la visita o il parere medico. Utilizza piuttosto queste informazioni come spunto di riflessione per te stesso o per parlarne con il tuo medico per prendere in considerazione prospettive e punti di vista diversi per poter trovare la strada più adatta a te. Ti spiegherò la mia strategia in maniera semplice e diretta senza adentrarmi troppo nei processi fisiologici e biologici. Durante la finestra di digiuno il nostro corpo ossida prevalentemente grasso, quindi va a produrre energia eliminando il tessuto adiposo in eccesso. Ma attenzione, alcuni studi dimostrano che questo processo può essere raddoppiato o addirittura triplicato. Per fare questo è necessario inserire all'interno della finestra di digiuno una determinata specifica metodologia di allenamento. Sto parlando dell'allenamento ad intervalli ad alta intensità, HIIT, High Intensity Interval Training. Come sapete io testo e provo tutto prima su me stesso e prima di fare questo video ho testato all'interno della mia finestra di digiuno questo protocollo di allenamenti per più di due anni. I risultati che ho ottenuto sono stati veramente sorprendenti e sono stati di gran lunga superiori a tante altre strategie che ho applicato in passato e non sono stati da meno i risultati ottenuti dalle persone che seguo all'interno del mio coaching online ALPT Home Fitness, un sistema d'allenamento che ho progettato da fare anche comodamente nel soggiorno di casa, fuori al parco o dove meglio preferisci ma che si basa proprio sul principio dell'allenamento ad intervalli ad alta intensità. Questo significa in pratica alternare momenti di lavoro ad elevata intensità diciamo sub massimale a momenti molto brevi di recupero e quindi proprio ad intervalli. Tutto questo per allenamenti veramente molto brevi stiamo parlando di una manciata di minuti al giorno. Tutte le persone che ho seguito nel mio coaching online e nei miei programmi di allenamento hanno constatato come eseguire allenamenti intensi e brevi della durata anche di 15-20 minuti per arrivare ad un massimo di 35-45 massimo 60 minuti al giorno per 2-3 volte a settimana abbinato ovviamente ad un'alimentazione corretta e al digiuno intermittente abbiano cambiato per sempre il loro fisico andando a accelerare il metabolismo e a ridurre in maniera incredibile il grasso ostinato che non riuscivano a ridurre con nessun'altra strategia alimentare e di allenamento. Perché questo? Perché i nostri muscoli sono gli ossidatori numero uno del grasso cioè i nostri muscoli per mantenersi hanno bisogno di tanta energia. Se vuoi intensificare l'efficacia del digiuno e sbloccare i risultati che ancora non hai ottenuto in termini sia estetici che di prestazione e di salute non puoi considerare questa carta vincente da giocare. Quindi abbinando il digiuno intermittente ad un allenamento che prevede picchi di intensità elevata in chiave HIT potrai ottenere grandissimi grandissimi livelli in termini fisici e di salute. Fammi sapere qui sotto nei commenti se vuoi saperne di più sull'allenamento HIT così magari faccio un video con qualche esempio di workout. In ogni caso seguendomi sui miei canali TikTok ed Instagram ed iscrivendoti al mio gruppo Facebook Angelo La Corte PT potrai vedere ogni giorno a livello pratico quali sono i miei workout, come mi alleno, che cosa mangio, come svolgo il mio digiuno intermittente e tutto quello che applico su me stesso per primo. In più puoi farmi domande alle quali rispondo sempre. L'allenamento HIT abbinato al digiuno intermittente cambierà per sempre il tuo modo di ottenere risultati e insieme ti porteranno al livello successivo di benessere. Ti accorgerai come con un'alimentazione sostenibile, facile da portare avanti, che non ti costa stress e sacrificio e un allenamento di pochi minuti al giorno che puoi fare nel tuo soggiorno, in posa o pranzo nel tuo ufficio o se vuoi in palestra o dove più preferisci, possa cambiare per sempre la tua composizione corporea in meglio. Ridurrai il grasso, aumenterai tono e massa muscolare, ti sentirai più forte, pieno di energia, carico, vitale e con l'umore alle stelle. Tutto questo ti renderà più produttivo e più propositivo, incentivandoti quindi ad allenarti con più intensità, con maggiore efficacia e quindi ad entrare in un circo virtuoso che ti condurrà al miglioramento continuo. Magari prova a mettere in pratica, prendendo spunto dai miei video, alcuni allenamenti ad intervalli in alta intensità abbinati al digiuno intermittente. Provalo per qualche settimana, barra un mese e fammi sapere come ti sei trovato. Io ormai dopo diversi anni che applico questa strategia su di me e su decine e decine di allievi che mi seguono nei miei protocolli di allenamento e sul mio programma di allenamento di coaching online a LPT con fitness, sono certo dell'immenso beneficio che ne trarrai. Entra il mio gruppo facebook Angelo La Corte PT e chiedi tu stesso alle persone che seguono il mio coaching online e i miei programmi di allenamento i grandi risultati e benefici che hanno ottenuto. E oltre ad aver raggiunto risultati mai raggiunti prima, lo hanno fatto in maniera divertente, stimolante e soprattutto cosa fondamentale, sostenibile. Se vuoi entrare a far parte anche tu del mio coaching online, sono felice di accoglierti e di aiutarti. In ogni modo, per qualsiasi cosa, resto a disposizione. Se ti è piaciuto questo video, metti un like, condividilo con chi pensi ne possa avere bisogno ed iscriviti al mio canale. Fammi sapere che cosa ne pensi qui sotto nei commenti oppure se ci sono domande e vuoi approfondire dei punti specifici. Per questo video mi sembra di aver detto tutto, ti ringrazio per essere arrivato fino alla fine e ti rimando nel prossimo video.